basta si diciamo inglese e vabbè mandamolo subito e poi ci ritroviamo per i saluti no? si no che dici vale? vuoi vuoi vada vada che senti sto presciutto che è senti come è dolce ho mangiato senti che sto presciutto l'ho detto è dolce è il zucchero a sergio lo senti ecco vedi quando qualcuno si sbaglia in diretta succede sempre è vero che fa del fonico che sta dietro l'acquario si si vabbè purtroppo la verità la colpa è mia sarai licenziato il fonico di oggi è Alberto Polinori perché quando lo fa la trasmissione lui è il fonico lo fa te no? esatto mi è piaciuta sta cosa infatti questa è Alberto il Flago Alberto ti facciamo cenno vabbè hai toppato tranquillo hai toppato ho toppato ma ovviamente è anche il bello della diretta quando dicono che sbagliano no? quelli pagano però quelli che sbagliano i pagano non ci pagano siamo tutti i volontari radiofonici quindi facciamo finta che non è successo niente e io direi anche di ripetere quello che abbiamo detto prima che abbiamo detto prima che è il nero è un gruppo da paura ah quindi ci stiamo avvicinando verso la fine e c'è rimasto l'ultimo pezzo in tracklist che è il gruppo dei nero che è un gruppo che esce fuori dalle righe perché ha contaminazioni di tutti i generi musicali che hanno una cultura musicale molto vasta ok e quindi andiamoci a sentire il pezzo dei nero reaching out sempre se Alberto non tol paura stavolta ma Alberto ci fa dall'altra parte ok ok tutto brutto ci fa ok così ci fa piccole corna ci fa ok vai reaching out che è senti sto prosciutto che è senti com'è ho mangiato senti che sto prosciutto l'ho detto è dolce è il zucchero Sergio lo senti ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti